Attenzione a Wilde col mancino Cambia a lato Poi di Diaz di Ivanei al volo Dalcin Vola La mette in angolo C'è il fischio del direttore di gara Luisigno col mancino De Filippis allontana E mette in fallo laterale Il giro palla della fel di Pesc Poi Luisigno Palla buona per Murillo Davanti a De Filippis Ancora Murillo la mette in mezzo Pina allontana Samperi ancora non Sta pensando al portiere di movimento Vuole provare a giocarsela ancora In questo modo Intanto De Filippis Allontana il tiro di Luisigno E la va a togliere però Un giocatore avversario Siamo già dall'altra parte Con Trentin che prova a girarsi De Filippis Allontana il pallone Portugala può rimettere in gioco Wilde Divanei Allora Diaz Per Wilde Glielmi Parata fantastica di Glielmi Sempre col power play La squadra campana Murillo Luisigno Colmancino Trentin Sotto rete Fa 3 a 2 Accorcia le distanze Trentin Quasi vicino All'area di rigore Weber para E poi prova a ripartire Miguel Weber Verso la metà campo offensiva Gran pallina avanti per Santos Parata di tornatore E Tomei Ancora super tornatore Ancora Santos Pala in corner Cesaroni va a rubarsi il pallone Lotta Vince il rimpallo Ancora Cesaroni Con il destro in porta E Tomei La pallina in calcia E tornatore strepitoso Vince il contrasto Santos poi Premiato dal rimpallo Verso Basile Che calcia addosso a tornatore Musumeci impressione Sull'argentino Weber deve allontanare Lo fa però sui piedi di Alonso Che calcia in porta E subito siamo già dall'altra parte Con Ricchichi Che trova Bukovic Che chiusura Di Luberto Pallone dentro E miracolo Di Martino Su Poletto Ugerani Tacco per Dalcin Che ruba il tempo A Coco Mammarella Alex che serve Danicic Si gira Danicic Col destro Cipollini Tanto Ercolessi Va da Patias Che ha spazio Grande parata Di punto Barra Sanchez La palla passa Monte Falcone Grande risposta Salas Palla fuori Per Patias Che calcia Sanchez Palla sul mancino Salta Salas Lo apre Poi Nardacchione Sul fondo Dopo la respinta Colpetto Lapsus Lapsus Rientra Fiusa Che poi Va a sbattere Sul palo Decisivo L'intervento Di Luan Fiusa Che poi È andato Rovinosamente A sbattere Sul palo Sul pallone Dimashil Fischio dell'arbitro Va Dimashil Tocco Sul secondo palo Per Bagatini Mostruoso Fiusa E poi Sulla linea Victor Mello Smorza Ulteriormente Il tiro E poi Altissimo Marcellinio Chut